Il cacciatore sarebbe stato un'al di là Vediamo ancora una volta per capire se il cacciatore con il piede ha toccato prima o dopo la linea bianca E' stato un dubbio da capire comunque la posizione di cacciatore sul colpo di testa Leggermente avanti forse il rimpiere comunque non è stato assegnato